Diciottesima giornata della fase al gironi dell'edizione Magna Grecia di Tornei Skies di fronte si schierano il Real Santa Fe ed il Real Napoli che si schiera in campo con... Come si chiama? Ah, Ercole tra i pali, poi De Vivo, Gianluca Ferrara, Annone e Russo Antonio, grazie, con Gabriele Ferrara in panchina. Per quanto riguarda invece il Santa Fe hanno un portiere che non riesco ancora ad individuare, poi c'è Del Puzzo, Parlati, Giuliano e Sabatino, in panchina invece non c'è nessuno. Portiere, come ti chiami? Portiere? Ah, si vieni, si vieni in panchina. Portiere, il cognome? Gaetano. Il cognome di cognome. Gaetano. È un onno? No, non lo so, Gaetano. Santa Fe e Real Napoli l'ultima volta si sono incrociate nel quarto di finale della Coppa Panellenica con un risultato veramente a sorpresa perché il Santa Fe ha subito insomma una brutta sconfitta per 8 a 1 mentre in campionato le cose sono radicalmente diverse. per sé, attenzione, autorete, insomma il possesso palla al ridosso della propria porta non è proprio una cosa consigliabile. consigliabile. E dicevo che in campionato le cose sono radicalmente diverse perché il Real Napoli galleggia nella parte bassa della classifica mentre il Santa Fe ha ancora la possibilità di superare gli scheggiampers e piazzarsi al secondo posto. Annone scambia con Russo che sale sulla fascia destra evitando Sabatino passaggio e mezzo Giuliano fa buona difesa interviene e parlati occhio a De Vivo De Vivo che, un po' così, essendoci stato lo scioglimento dei lollipop e dalle cui ceneri poi sono nati appunto gli amici del Real Napoli e De Vivo ha fatto parte dei lollipop. Sabatino Bravo qui Russo Gioco di gambe su parlati Che gol di Russo 2 a 0 Bello, bello, bello il gol di Russo Vabbè, mi hai appeso anche questa volta. Ci vediamo quest'estate, puntante ruote dì. Buon Aldo Bravo De Vivo, attenzione, traversa Ragazzi che grinta il Real Napoli, in pochi minuti occhio ad Annone che sale, passaggio a De Vivo, prova a girarsi il numero 14 però c'è la buona difesa di Del Pozzo che guadagna anche un fallo per questa scivolata di De Vivo Calcio di punizione Giuliano Passaggio a Del Pozzo Ancora De Vivo che è out Stava allacciandosi i lacci Parlati Del Pozzo Sabatino Buona l'uscita di Ercole con il numero 8 Ma c'è l'altro pallone, eh, qualora Del Pozzo Passaggio a Parlati Bravo Ferrara E quindi Annone Chiusura di Parlati Scivola De Vivo, recupera Parlati Destro Il gol di Parlati Accorcia le distanze del Santa Fe 2 a 1 Ma guarda che l'ho gonfiato, eh, Vittor L'ho gonfiato Annone Bravo Bravo Qui Giuliano Quindi recupera Del Pozzo Giuliano ancora Gaetano Bravo Giuliano Bravissimo Ancora Sabatino Il sinistro Fermato Qui da Non so se De Vivo O Annone Tanto c'è il cambio Esce De Vivo Ed entra Ferrara Giuliano Passaggio a Sabatino Fermato però Dalla difesa Del Pozzo Ricomincia Da Sabatino Chiuso Sabatino Recupera Per un attimo Antonio Russo Che guadagna anche Un buon calcio di punizione Da posizione anche Diciamo Interessante Perché stiamo Più o meno all'altezza Del tiro libero E' chiaro che siamo Decentrati Però magari Un buon tiro a giro Comunque un passaggio interessante Anche al limite Dell'area di rigore Può Mettere Qualche brivido Sulla schiena Dei giocatori Di Santa Fe Ferrara E' passato E' malissimo Questo calcio di punizione Molto male Nonostante le mie premesse Parlati Avanza Taglia il campo Con questo passaggio Buona la chiusura Di Annone In calcio d'angolo Il cross Cercare del Pozzo Il pallonetto Sabatino di testa Però rimane a terra Quindi Annone Di punta Cerca Ferrara Cambio gioco di prima In qualche modo Del Pozzo Pressing di Ferrara Bravo del Pozzo Qui Che serve Giuliano Quindi parlati Chiusura di Annone Ancora Annone Il palo Il secondo Del Real Napoli Dopo la traversa Di De Vivo Attenzione Russo Bravo qui Che avanza Lo rincorre Sabatino Chiusura di parlati Fallo laterale Per il Real Napoli Quindi Annone Passaggio Ad Ercole Gabriele Ferrara L'esperto capitano Del Real Napoli Che ci prova Dalla distanza Gaetano In In volata Diciamo così Blocca la sfera Quindi parlati Del Pozzo Scarica A sinistra Per Enzo Giuliano Che apre Dall'altro lato Per parlati Si muove Sabatino Parlati Serve del Pozzo Tutti chiusi Quelli del Real Napoli Del Pozzo Si provoca Lo spazio Ci sono i cambi Attenzione Esce Giuliano Ed entra Siviero Esce anche Russo No Esce Ferrara Esce Ferrara E quindi Rientra De Vivo Russo Fa Metticello Stasera Ma che stacchi Perché come tutti Ci siamo sbagliati Presto Parlati Chiusura Della difesa Del Real Napoli Quindi De Vivo Il controllo Fermato Però Da Del Pozzo Che evita Anche Ferrara E poi Che sta Sabatino Esce Ercole Palo di Sabatino Fallo laterale Le Calcio d'angolo battuto corto, però è sbagliato qui il passaggio di ritorno di Sabatino. Scusatemi se scrivo eh ragazzi. Buona! Parlati, il controllo avanza, il destro palo! Festival dei pali stasera, del Pozzo, buono il controllo. Siamo al decimo, 2 a 1 il punteggio. Parlati, riceve da Sabatino, Santa Fe sta salendo in cattedra, bravo del Pozzo, Sabatino non aggancia, pallone che finisce in fallo laterale. A dove è la distanza? Regala il pallone a Gaetano, quindi Siviero, parlati, scarica largo per Del Pozzo, quindi parlati. Si fa vedere Del Pozzo, ancora parlati, chiuso, parlati. C'è un fischio dell'arbi, c'è un calcio di punizione per il Santa Fe, effettivamente c'è stato un calcetto ricevuto, non ho capito, non ricordo, credo da Del Pozzo, mentre cercava il passaggio poi deviato in fallo laterale. Sabatino Sinistro deviato dalla barriera, calcio d'angolo Ferrara intanto si è risistemato i capelli prendendo la fascetta dagli spogliatoi del Pozzo, chiusura di Ferrara, quindi ancora Real Napoli in possesso palla, De Vivo, avanza De Vivo, perde palla, recupera Siviero. Quindi parlati, avanza parlati, bravo Russo che lo segue, calcio d'angolo, Del Pozzo, sinistro alto. Rientra Ferrara ed esce De Vivo. Annone, Russo, Annone ancora, Gianluca Ferrara, avanza, bravo Quisiviero, recupera però Ferrara, che ci prova dalla distanza e il pallone finisce all'altra. Siviero, palleggiano gli esperti del Santa Fe, occhio qui, bravo Ferrara, male per Gianluca Ferrara. Ma fa freddo stasera. Siviero riceve da Sabatino centralmente parlati, che si è sganciato dalla posizione centrale, tocca per un attimo Ferrara. Ancora Santa Fe in possesso del Pozzo, parlati, palleggio ubriacante del Santa Fe, ancora parlati, bravissimo Russo, che lo chiude ancora una volta. Nello, chiedo scusa, parlati. Siviero, male qui per parlati. Annone, pressing altissimo di Siviero, quindi Russo avanza, bravissimo Russo che supera il centrocampo con le cattive, aveva provato a contrastarlo Siviero, ma Russo lo aveva seminato in velocità, quindi calcio d'angolo. Ferrara chiuso, ah no c'è stata la deviazione proprio di Ferrara, quindi fallo laterale per il Santa Fe che domina nel possesso palla. Del Pozzo evita Gianluca Ferrara. Parlati, Siviero, quindi parlati. Siviero ancora, Annone recupera per il Santa Fe e per il Real Napoli, rischia con questo possesso su Sabatino, poi Ferrara è chiuso da Del Pozzo e Sabatino, recupera palla parlati, che va via a Russo che però non lo molla. Occhio a Sabatino dall'altro lato, c'è Del Pozzo vicino, parlati, mantiene ancora il possesso e c'è il fallo laterale per il Santa Fe tra le proteste del Real Napoli. Quindi parlati, quindi parlati, Sabatino, attenzione, bravo Ercole. Sabatino all'indietro per Siviero, bravo Ferrara. Quindi recupera Gabriele Ferrara, uscita del portiere, Ferrara a lato, il tiro del capitano. Siviero, passaggio a Del Pozzo, quindi parlati. Destro al fulmicotone di parlare, che si spegne alto. Esce Ferrara, è il terzo cambio che fanno tutti e due. Rientra De Vivo. Nello De Vivo, stoppa a seguire, buono il passaggio per Ferrara! Incredibile errore di Ferrara! Che tira a lato! Quindi parlati, ancora parlati! Pareggio, doppietta di parlati, due a due! Russo, De Vivo, gioco di gambe su Siviero. Il cross fermato da Del Pozzo, poi Sabatino allunga. Allarga Annone. Ferrara, dall'altro lato per Russo. Uno contro uno con Siviero. Russo, al lato e al destro! Siviero. Del Pozzo. Siviero. Ercole, tranquillamente. Ferrara, male, qui perde De Vivo. Recupera Siviero che avanza sulla destra, passaggio in mezzo. Ferma Annone. Quindi Russo in velocità contro Siviero. Ancora, attenzione, tre contro uno. Annone, Russo! Erroraccio del Real Napoli. A forza, puoi chiamare Santa Fe. Recupera Annone. Male, qui perde De Vivo. E poi Gaetano fa solo la sfera. Ma quanto stanno sprecando il Real Napoli. Sabatino. Chiusura di Ferrara. In fallo laterale. Recupera Ferrara. Siamo vicina a Vallo. Siamo vicina a Vallo. Quindi parlati. Allarga per Siviero. Sabatino. Si gira il sinistro. Ancora Sabatino dopo la deviazione di Annone. Quindi Russo ed Ercole. Io porto sei. Russo. Chiusura di Siviero Fallosa. Questo è il terzo. No, allora è la seconda. Difficile, ma almeno sei minuti è difficile. Nello De Vivo. Bello il giro. Peccato che il pallone però sia finito alto. Parlati. Si fa vedere Siviero. Sabatino lo serve. Quindi Siviero ricomincia poco indietro da Parlati. Che gli restituisce palla. Ancora centralmente. Parlati. Bella la parata di Ercole. Che devia in fallo laterale. Allarga bene per Del Pozzo. Però gli scivola il pallone da sotto alla sua. Prima partita di Manate. All'esterno. Eh, eh vabbè. Però vedi ti puoi rifare non solo nelle fasi finali ma ti puoi rifare tra un paio di mesi quando li cominci. Più calmo. C'è l'alba che se si. Si era inalgamacoso. Ah? Si doveva inalgamare la cosa. Annone buono lo stop per Russo. Che supera il centrocampo. Prova ad evitare parlati. In qualche modo ci riesce. Il Real Napoli perde palla. Occhio a Del Pozzo. Il palleggio. C'è il solo Annone. Del Pozzo vuole strafare. E guadagna il calcio d'angolo. Dopo la deviazione di Annone c'è stata anche la parata di Ercole. Quindi Sabatino il cross a cercare parlati. Lo stop di petto dell'autore della doppietta. Che porta sul pari al momento le due squadre. Del Pozzo parlati. Ottimo lo stop. Palleggio ancora di parlati. Pallone per il Santa Fe ancora. Quindi Sabatino. Siviero avanza. Fermato bene da De Vivo. Bravissimo Siviero. Chiedo scusa. Sabatino. Gioco di gambe del numero 10. Il tacco a cercare Siviero. Chiusura di Ferrara. Un assedio alla porta di Ercole. Il cross di Siviero. Quindi parlati. Ancora parlati. Avanza evitando Ferrara. Paratone di Ercole. Molto bene. Mamma mia. Perché tu vabbiamo di qui. Andiamo a fermare. Qui c'è entrato. Lui c'è entrato. Sabatino. Il cross a cercare del Pozzo. Quindi Siviero. Deviazione. Ancora calcio d'angolo. Sabatino. Il cross dall'altro lato. A cercare del Pozzo. Recupera bene Russo. Però perde palla. Ancora del Pozzo. Occhio a parlati. Del Pozzo recupera. Siviero. Prima di Ferrara. Però tocca un attimo il pallone. Quindi Siviero all'indietro per Gaetano. Pressing. Bravo qui Gaetano. Una finta su Ferrara. Ancora Siviero. Pressing alto di Ferrara. Sabatino. Il calcio lungo in avanti. A cercare del Pozzo. C'è parlati dall'altro lato. Del Pozzo lo vede. Viene servito parlati. Occhio all'inserimento di Sabatino. Parlati. Gioco di gambe. Rovesciata di Sabatino. Rimessa dal fondo. Esce Gianluca ed entra Gabriele Ferrara. Russo. Ancora Russo. Chiusura di Gaetano. Ma c'era De Vivo. C'era anche Gabriele Ferrara dall'altro lato. Parlati. Bravo De Vivo in chiusura. Sabatino. Chiusura di Annone. Ritmi altissimi del Santa Fe. che però con parlati ora perdono il possesso. C'è il duplice fischio dell'arbitro. Andiamo a parlare con Ercole. È un assedio alla tua porta però state difendendo bene. Sì. Dobbiamo fare di meglio. Dai. Buon intervallo del Real Napoli. E buon intervallo anche al Santa Fe. Per cominciare il secondo tempo tra Santa Fe e Real Napoli. Il punteggio è di 2 a 2. Sì è serie C o serie D. Punteggio di 2 a 2 tra Santa Fe e Real Napoli. Dicevo la doppietta di parlati per il Santa Fe. mentre le reti di Russo e Annone se non sbaglio. Era l'autorete di Giuliano mi sembra. E poi parlati ha fatto la doppietta. e poi ha portato appunto il punteggio in parità. Belli questi scarput colorati. Non vi ringrazio in parità. Vaferà fido. Fai sinistra la famosella sulla. E vai fare fido. Sì. non riesce il controllo di russo del pozzo avanza passaggio a sabatino deviazioni di ercole calcio all'indietro si viero quindi parlati del pozzo uno contro uno russo all'indietro parlati per un rara quindi ancora parlati all'indietro si viero destro di si viero chiusura di annone ed ercole fa su alla sfera russo avanza russo chiusura di parlati ancora russo però si viero recupera nello de vivo bravo qui è vivo bel tiro pallone che però finisce in calcio d'angolo no non lo so non credo de vivo male 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 parlati ancora parlati destro il gol di parlati tripletta 3 a 2 ribaltano il risultato gli uomini di capitan sabatino brutto errore di ercole l'unico della partita che è stato decisivo esce intanto sabatino ed entra giuliano mentre è uscito de vivo ed è rientrato gianluca ferrara gabriele ferrara per annone che ci prova dalla distanza e gaetano ferrara ancora gaetano nello fatto calcio di rigore dice l'arbitro fallo di parlati su russo che va proprio alla battuta del calcio di rigore mettiamo qua e lo riprendiamo bene gol di nuovo parità 3 a 3 doppietta di russo del pozzo giuliano siliero giuliano del pozzo attenzione bravo qui parlati che mantiene il possesso sul contrasto di annone siliero giuliano siliero giuliano del pozzo parlati evita ferrara ora parlati destro dove l'ha messa poker di parlati 4 a 3 ferrara male qui per un attimo annone che poi non riesce ad allungare per passare il pallone quindi del pozzo giuliano 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 siliero parlati giuliano del pozzo giuliano siliero allunga per del pozzo ercole abbiamo gonfiato se non ti piace pallone per gli arancioni annone russo parata di gaetano e quindi giuliano buono il passaggio per parlati a tagliare il campo ancora parlati di pallonetto braccio dice l'arbitro veramente molto molto fiscale questa chiamata la battuta del calcio di punizione parlati male impreciso il tiro di parlati gabriele ferrara avanza giuliano occhio a giuliano bravo russo fallo tattico di giuliano il fallo tattico che chiaramente ammunizione ferrara gialluca ferrara sinistro sbilanciato attenzione del pozzo parlati bravissimo qui annone che regalava vittorio del pozzo che però devia che tira male parlati passaggio a del pozzo passaggio a del pozzo l'arabona per giuliano che tira alto però che bello il passaggio di del pozzo passaggio a del pozzo passaggio a del pozzo annone passaggio a de vivo di prima si viero prima di russo che aveva toccato per ultimo si viero giuliano parlati destro di parlati bravo ercole quindi sabatino giuliano di nuovo sabatino poi molto bravo annone quindi russo de vivo russo che bella azione 4 a 4 ma non chiede misa casa con una tutina maglia russo signori che la squadra tutta la maglia rosso metta casac parlati 4 a 4 bellissima partita attenzione ercole ferrara allarga per annone russo è rimasto indietro ancora annone ferrara non riesce ad agganciare questo pallone e quindi rimessa laterale per il santa fe da siliero a giuliano quindi parlati ancora parlati bravissimo annone che salva sulla linea di porta poi de vivo c'è ferrara dall'altro lato de vivo in qualche modo riesce per ferrara parata di caetano che bel sinistro di ferrara deviazione di de vivo di siliero pallone per sabatino allarga per parlate attenzione parata di ercole ancora fallo laterale molto bravo ercole non fa per niente rimpiangere pompilio quindi giuliano la rete 5 4 russo annone russo ancora russo di vivo chiusura di gaetano russo è veramente la luce del real napoli parlati sparato del pozzo vuole entrare ma nessuno lo esce quindi annone russo ancora c'è de vivo libero russo serie di finte russo bravissimo qui gaetano e poi giuliano in qualche modo russo tocco di mani calcio di punizione ferrara la battuta di questo calcio di punizione non saltate non saltate non saltate per favore male ferrara pallone in fallo laterale di testa russo di testa de vivo russo prima di del pozzo ancora russo vantaggio di l'arbitro dice l'arbitro ferrara in mezzo c'è annone quindi gaetano non è fallo dice l'arbitro quindi parlati ancora parlati occhio a sabatino che fa sei a quattro doppio primo doppio vantaggio della partita io lo voglio dedicare a mio figlio che vi un buon compleanno amore auguri kevin auguri siamo al quarto d'ora del secondo tempo ancora dieci minuti per la remuntata del real napoli che insomma si era trovato in parità più volte aveva anche incominciato in vantaggio però il santa fe poi alla lunga ha avuto o meglio sta avendola meglio non c'è fallo dice l'arbitro quindi avanza parlati bravo annone ferrara de vivo direttamente tra le braccia del portiere del pozzo serie di finte di del pozzo che vivo a corsa la distanza annone impegnativo questo tiro parlati sabatino parlati ancora passaggio a del pozzo il passaggio a cercare sabatino che però scivola parlone finisce in fallo laterale quindi annone russo la luce del real napoli avanza russo chiusura di giuliano in fallo laterale de vivo male qui malissimo de vivo del pozzo in qualche modo de vivo ammorbidisce questo pallone per ercole avanza de vivo scopertissima la difesa del real napoli annone destro gol 6 a 5 esce di vivo ed entra gianluca ferrara giuliano parlati sabatino del pozzo parlati ancora del pozzo chiusura di annone e poi giuliano perde palla ferrara palla pericolosissima la tocca credo ercole un calcio d'angolo parlati rimessa dal fondo dice l'arbitro annone quindi russo uno contro uno con giuliano occhio ferrara parata di gaetano attenzione parlati morbido 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 e la mette in rete 7 a 5 quinto gol di parlati ferrara gaetano facile lo stop passaggio a del pozzo il stacco per sabatino pallone in mezzo bravissimo russo chiusura di giuliano in calcio d'angolo ferrara contro sabatino due sinistri due capitani annone sul fondo parlati direttamente sul fondo ferrara mamma mia io che rischio però è annone russo avanza russo c'è il fallo di parlati e quindi tiro libero per il real napoli o calcio di punizione questo è il quarto non è che non ho mai fatto quattro a due fatti che non ho mai messo di cavallo alti troppo alti troppo e il gioco e il gioco caldo il fascista sono tutti quanti cumulati di e beh perché io non ho sempre quattro e cinque un po' più a testa 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 andavo cavallo guarda guarda non si è guarda ma non l'aveva già chiamato quattro a due non mola quattro a tre no quattro a tre no quattro a tre no se lui è qua non saltate non saltate non saltate non saltate oh alto qui il tiro di di Annone quindi ancora Ferrara ancora parlati che non commette fallo ancora avanza parlati passaggio a Giuliano che tira fuori bravissimo Gaetano ha fatto male il portiere quindi va a fischiare guarda c'è l'ora come le fanno mi sono fermato io e loro ce lo andranno allora Gaetano Siviero parlati allarga per Del Pozzo che stoppa bene Del Pozzo evita Annone evita anche Gianluca Ferrara occhio a Sabatino e fa 8 a 5 dedicato a frate mi ci detto per lo calcio ce lo puoi insegnare senza offeso ci sta ci sta Sabatino Del Pozzo non ci arriva e Ferrara la mette in rete 9-7 no 8-6 e io porto uno quasi andò 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 ragazzi due minuti andò anò un arè adè del pozzo molto bene ed è vivo per un attimo quindi del pozzo sabatino non so cosa si può fare però è stata simpatica però l'arbitro per non fischiare significa che dovrebbe essere palla trattenuta non è parlati ancora gol se si è mosso lui l'ho vinto la valsa del movimento dei vivo partita che si avvia alla conclusione tante reti ho perso il conto credo 96 97 per il santa fe real napoli che però continua ad attaccare ed ha retto comunque alla grande lungo tutta la partita ferrara recupera del pozzo c'è il triplice fischio dell'arbitro andiamo da fino parlati velocemente per la sede vista brutto all'inizio poi avete recuperato lungo la partita però gli avversari non sono stati affatto male si è stata è stata una bella partita all'inizio è stato un po difficile giocare e fare gol la squadra per stata la squadra avversaria ha dato tanto faccio i miei complimenti complimenti al santa fe ci vediamo la settimana prossima ciao ciao ciao